E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto ma che dico video live perché live perché oggi è martedì martedì ormai non perdo il conto dei giorni martedì 10 maggio e quindi come ogni martedì che si rispetti siamo in live per andare ad approfondire insieme quello che sta accadendo al prezzo di bitcoin alle principali al coin a luna a tutto un disastro ma ne parleremo e ne approfondiremo bene insieme infatti sono stato felicissimo che oggi ci fosse la live proprio per questo motivo qua per poterne parlare assieme rispondere ai vostri dubbi alle vostre domande e capire un pochettino come gestire questa situazione ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace quando mi vediate su youtube se siete invece qua su twitch potete sincronizzare il vostro account di twitch ad amazon prime e in automatico appunto potervi iscrivere al canale insomma mi arriva una micro donazione per voi è gratuito quindi se lo fate vi ringrazio detto ciò ragazzi non perdiamo altro tempo volevo solo farvi la prima scillata poi partiamo quella di margex perché è un exchange che di cui ogni tanto ve lo cito così interessante secondo me il live demo perché per chi non vuole metterci soldi o vuole testarlo può provare a farlo appunto con la demo quindi provare a fare un trade con la demo secondo me è interessante anche per poter applicare magari delle vostre strategie e da lì andare poi a vedere se come vi trovate insomma ovviamente lo sapete non è un incitamento a utilizzare queste piattaforme in alcun modo ma appunto per chi chiede appunto qualche strumento anche di live trading in maniera gratuita solo per testare vedere come si trova e vedere come vanno le loro posizioni beh può essere una situazione utile da gestire quindi potete utilizzarlo trovate poi i link chiaramente in descrizione ma veniamo a noi veniamo a noi ragazzi siete sopravvissuti vi chiedevo perché dopo tutto quello che è successo ho chiamato questa live appunto respiro perché respiro perché effettivamente prendiamo un attimo una boccata d'aria lo guardiamo bene sul livello daily sul giornaliero abbiamo fatto la prima candela verde dopo una due tre quattro cinque giorni di disastro soprattutto l'ultima perché ha chiuso in maniera veramente tanto aggressiva siamo andati a testare i 29,7 circa che hanno tenuto abbiamo rimbalzato anche abbastanza velocemente la chiaramente a mio parere era un supporto fondamentale quindi è anche normale che per almeno un attimo l'abbiamo ottenuto sicuramente la reazione poi non ha avuto una continuazione particolare siamo andati su fino a 32,6 dopodiché siamo tornati stando sui 31,3 come ci troviamo adesso sui 31,3 quindi per chi mi chiede siamo fuori pericolo non è ancora detto ok questi bounce solitamente quando arrivano devono arrivare con foga sicuramente è interessante il fatto ma lo commentavo già stamattina con voi che sulla candela delle due sono entrati volumi finalmente bullish importanti però poi vedete a parte la candela che ci aveva sparato fino a 32,6 non abbiamo più avuti anzi siamo in un volume comunque tutto sommato non particolarmente influente anche qua in effetti se paragonati i volumi non ci sono stati volumi altissimi però sicuramente la situazione è molto difficile è molto complessa anche per il posizionamento e quindi è chiaro che ci troviamo in una condizione ancora di indecisione il prezzo non ha ancora detto non ci ha ancora dato segnali di volersi fermare noi dobbiamo stare attenti a questi bounce e prenderli in quanto bounce quindi non fare i buy the dip a casaccio o comprare a casaccio solo perché scende ma questo penso che per chi mi segua lo sa molto bene e lo sa da grande perché l'errore è sempre dietro l'angolo e noi il bottom purtroppo non possiamo prevederlo ok chi vi dà un bottom la sta sparando ma noi siccome cerchiamo di fare analisi il bottom non li possiamo prevedere li possiamo prevedere solo su un volume climax quindi con dei volumi fuori dal normale e non sono questi ma parliamo proprio di volumi fortissimi su una determinata candela magari di capitolazione però per il momento non abbiamo questo segnale nulla ci vieta che possiamo andare a fare un bounce anche più aggressivo a livello daily perché tutto sommato abbiamo avuto praticamente un coltello che ci ha affondato quindi un bounce può arrivare tranquillamente ma in una condizione di dump da dove è originato a dove è arrivato che praticamente è andato giù di un meno 25 voi capite che a livello di fib dobbiamo almeno di portarci in zona 35 36 per avere un bounce che possa darci spazio per un equilibrio o per trovare un lower eye giornaliero e vedere di cercare l'inversione trend quindi fare una cosa di questo genere per capirci quindi un bounce per cercare poi di avere spazio per trovare un low e cercare l'inversione trend ma fino a che facciamo rimbalzi e facciamo uppershadow importanti non me la sento di dirvi questo è il bottom ok a parte che non ve lo direi comunque ma perché non do consigli di investimento finanziari ma in ogni caso non sono così confident nel definire questo bottom sicuramente a livello di logica a livello di analisi se andiamo a prendere le chart con un zoom out questo livello qua segnalato da parecchio tempo in quest'area questo box viola è stato rispettato alla perfezione ma non ci vuole un box viola il mio box viola per definirlo semplicemente parliamo dei 30k che sono uno spartiacque importanti è importante ed è lo spartiacque che vi avevo dato appunto come lo ok abbiamo in realtà invalidato però l'ultimo lo mensile che è questo qui a 33.000 dollari insomma pressa poco siamo là e quindi non ci siamo messi in una condizione molto buona anche a livello mensile non siamo in una condizione altrettanto positiva proprio per questo motivo perché abbiamo invalidato l'ultimo lo mensile che era qua vedete e a questo punto siamo in una correzione molto forte un due mesi molto molto potenti a ribasso e non dobbiamo arrivare a fare anche qua bear flag mensili capite dove sta il discorso che se anche noi andiamo a recuperare mensilmente il rischio è quello di una bear flag non abbiamo ancora testato la 50 la 50 guardate dove è stata testata a livello mensile solamente a marzo 2020 ok al crash dei mercati per il momento non è mai stata testata però abbiamo perso 12 e 26 mensile e quindi potenzialmente potremmo trovare anche un potenziale bottom sulla 26 scusatemi sulla 50 mesi e ma capite che siamo in una condizione di assoluta fad fondamentalmente anche perché tutto quello che si sente in ultime ore è particolarmente fad e quindi essendo che stiamo operando in un mercato altamente emotivo altamente speculativo ok gli squali di queste situazioni fanno festeggiano ok stappano spumanti perché poi alla fine cercano di posizionarsi nella maniera più corretta il mio consiglio è che se non sapete cosa fare ok aspettate pensateci abbiate calma abbiate pazienza e reagite poi di conseguenza non fate scelte avventate ok ovviamente non faccio un monologo oggi arrivo anche a voi alle vostre domande perché so che sicuramente ci saranno un po' di domande sicuramente molto interessanti però questo è la situazione a mio parere poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate a livello di dominance in realtà non abbiamo avuto particolari movimenti anche perché effettivamente è dampato tutto alla grande nella giornata di oggi stiamo vedendo un piccolo storno ulteriore di dominance proprio per un discorso di recuperi che stiamo vedendo magari a doppia cifra su atom, dot che fa un più 10, atom più 14 viene bd fa un più 8, ftx un più 11, ada un più 10 quindi abbiamo delle alcoin che ovviamente avendo perso un po' di più andando a recuperare più velocemente ma il focus è sempre improntato su bitcoin a maggior ragione in questi momenti ragazzi la cap di mercato è collassata perché ci ha portato con un bruschissimo 1.43 con un minimo 1.34 trillion e quindi capite che anche a livello di cap ci avviciniamo a dei livelli che se vogliamo possiamo traslare insomma fino a questi punti qua per capire un po' dove ci troviamo ok sulla market cap non farei particolari analisi tecniche le tengo di più come indicatori interessanti per andare a valutare quella che è la condizione di denaro all'interno del settore come sempre però ci fa un po' capire veramente lo storno che è arrivato una bella bastonata nei denti che però penso io sempre nel bicchiere mezzo pieno insomma nell'ottica anche di una formazione io credo che i momenti di mercato come questi molto difficili sicuramente perché il mercato non è facile assolutamente ve lo posso garantire siano i momenti migliori per formarsi, siano i momenti migliori per capire che cosa veramente si è in mano quello che c'è ha di valore, quello che non ha di valore, tante cose ok vi aiutano un pochino a uscire da quella che è una bolla una bolla di solo rialzi, una bolla di solo pump e una bolla di mercati semplici ok ma questo non vale solo per le cripto, vale per altri mercati chiaramente le cripto sono mercati altamente volatili, altamente emotivi, altamente immaturi e lo vediamo da tanti movimenti molto bruschi, molto repentini non siamo ancora a un livello di maturità di mercato che ci permette di poter avere una sicurezza in un movimento al 100%, non lo avremo lo stesso ma comunque sia non abbiamo quella maturità banalmente ok bene, detto questo passiamo anche alle vostre domande quindi mi raccomando che so che siete belli carichi Aftersede CZ è in live contemporanea dovevo esserci anche io ragazzi da CZ ma impegni non me l'hanno consentito sono ancora qua che dico ho perso una grande occasione di incontrare il buon CZ ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni quindi c'è comunque il resto del cartello in agguato per noi cioè mi cosa ne pensi del dump di Luna? recupererà gli antichi fasti e apriamo allora il vaso di Pandora di Luna allora, 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 allora Luna è disastro nel senso che a prescindere dalla candela di oggi guardate i volumi di Luna cioè di ieri scusate guardate i volumi di Luna di oggi cioè clamorosi abbiamo fatto praticamente una candela che se andiamo a misurare ha un'escursione di un 40% up and down ragazzi cioè per farvi capire quanto effettivamente ci sia indecisione su Luna e che cosa fare allora, banalmente qual è stato il problema? il problema è stato UST-USDT perché? perché vedete bene che cosa è successo siamo andati a depegarci completamente e siamo andati nella notte alle 2 mi pare fossero le 2 del mattino ora guardiamo la livello orario che è un po' più ok che ora erano? eh esatto, le 2 del mattino siamo andati a toccare gli 0,60 praticamente su Binance dopodiché abbiamo subito fatto un bounce forte siamo tornati a 0,84 abbiamo ridampato a 0,70 e poi nella mattina insomma ci siamo riusciti a riportarci fino a 0,95 addirittura e poi siamo in lateralizzazione sugli 0,90 è successo di tutto chiaramente sono condizioni a mio parere allora, partiamo dal presupposto che Luna, UST, Anchor e tutte queste DeFi sono sperimentali ok? quindi valgono tanto quanto un esperimento, una formazione ok? ma come tutta DeFi pensate che stiamo parlando di Bitcoin come un mercato non maturo almeno questo è il mio parere figuratevi la DeFi figuratevi sono tecnologie a me che mi appassionano un sacco però bisogna sempre capire cosa si maneggia UST è una stablecoin algoritmica ciò significa che viene generata barnando Luna ok? e se c'è tanta forza di barn di ST si generano nuovi Luna ok? funziona con un algoritmo molto banalmente qual è il discorso? il collaterale che è stato introdotto e poi mi riconduco a questo tweet di TheOne che ha fatto da poco nel pomeriggio ma il collaterale che è stato introdotto in Luna per tenere UST peggato in Bitcoin serve esattamente a questo era un insurance ulteriore per dire ok UST si depegga non voglio danneggiare troppo Luna vado a utilizzare questo questo collaterale in Bitcoin per tenere il peg ok? banalmente giusto sbagliato è una stablecoin completamente algoritmica quindi non ha senso che ci sia una situazione di questo genere ok lascio a voi la palla su questa cosa quello che voglio farvi capire è che quel collaterale in effetti è stato spostato infatti ho visto un po' di tutto gente che diceva ah ma vedete Bitcoin li hanno venduti no li hanno spostati per andare a darli a 750 milioni in BTC e 750 milioni in UST che non credo siano stati usati gli UST per tenere il peg per darli a un money market maker o market maker banalmente che andasse a fare arbitraggio per tenere il peg ok? questo non significa che allora si arriva di nuovo al peg ok? perché c'è stata una fortissima self pressure e voglio farvi vedere su Anchor Protocol che credo che questa chart sia dica tutto guardate i depositi praticamente in due giorni ok? di quanto si sono ridotti cioè voi passate da 14 miliardi di dollari a 6 ok? allora voi dovete immaginare che 750 milioni di BTC ok? in BTC ok? non vi possono ottenere un dump di 6 miliardi di dollari anzi di più 6-12 no 8 miliardi praticamente di dollari in sell capite che self pressure c'è stata? in più sono state fatte dei borro abbastanza strategici su Curev eccetera per andare a continuare con la self pressure e quindi dovete anche capire il contesto la situazione che si è generata non è stato non è un de-peg dovuto a non c'è nulla è un de-peg dovuto a una sell pressure molto forte che in questo momento sembrerebbe sembrerebbe mi raccomando il condizionale è d'obbligo in questi casi essersi abbastanza contenuto mantenendo comunque UST de-pegato ognuno fa le sue scelte le sue strategie non vi sto dicendo che se avete UST dovete venderli non vi sto dicendo di comprarli perché tornerà al dollaro il tempo ci dirà ok? però dovete sempre avere in mente di cosa state comprando perché se non sapete come funziona la stable coin algoritmica se non sapete a cosa serve la riserva in BTC se non sapete il perché c'è stato un de-peg se non sapete come funziona effettivamente l'arbitraggio capite che sono tutte informazioni buttate lì a caso senza capire effettivamente di cosa si sta parlando ok? io mi meraviglio che di fronte a una sell pressure del genere ragazzi siamo a 0,92 quasi ok? ma non perché io sia un fanboy di Luna anzi cioè nel senso a me piace come progetto l'ho sempre detto ma perché è interessante lo use case il capitale a prescindere da Anchor stesso che ovviamente Anchor è uno strumento per supportare Luna è ovvio ma che ci sia un inflow di capitale dalla LFG va bene può piacere può non piacere è un'opinione il discorso che io vi faccio è che dovete immaginare i numeri e dovete immaginare una botta di 8 miliardi di dollari che spariscono in due giorni vi vengono missi in sell pressure come fate a tenere un peg? certo le responsabilità ci sono nella gestione magari ma il problema sta che sono non dico attacchi perché poi in the file gli attacchi cosa significa significa tutto e nulla ma sono situazioni che sono veramente critiche c'è uno stress test da paura questo e vedremo come se la caverà su uno stress test del genere ma capite che è epocale per UST guardate non c'è mai stato un outflow di questo genere qua ed è per questo che abbiamo visto questa situazione qua ok bene quindi spero di averlo detto e chiarito un po' quello che è successo Lubon ha scritto alle 5.32 di pomeriggio che sono vicini ad annunciare un recovery plan per UST insomma di tenere duro vedremo vedremo cosa cosa vorranno fare vedremo come come andranno a implementare un recovery plan sicuramente sarà interessante vedere la reazione su UST secondo me chiaramente la prima botta è stata assorbita dal mercato vedremo se ci saranno ulteriori smottamenti in ogni caso ci terremo chiaramente aggiornati però questo è un po' il tutto della situazione spero di avervelo un po' chiarito poi fatemi sapere se qualcosa non è stato chiaro in modo tale che possa tornarci su ok ritorniamo al nostro BTC allora buonasera emi ho due domande veloci secondo te è possibile che la mancata reazione bulla di quelle che chiudono in hammer sia dovuta al fatto che domani escono scusate sia dovuta che domani escono i CPI magari aspettano esiti positivi per essere più confidente due a me su settimanale sembra un enorme wedge resta un pattern bullish anche sul time frame così ampio guarda ti dico sul mensile non siamo messi bullish e il mensile ovviamente a mio parere è dominante sul settimanale quindi non lo so su quello non sarei così d'accordo per quello che riguarda appunto la mancata reazione bulla ti dico personalmente di fronte a un momento del genere un CPI trova il tempo che trova perché direi che di fronte a un dump del genere comunque sia un reset di mercato bene o male c'è ok di fronte a questi dati voi dampate di un 25% in 1 2 3 4 5 giorni insomma non credo ecco che sia molto influente tra 3 anni ci vedranno tutti per aver visto sti prezzi chi vivrà vedrà buonasera cosa succederà luna abbiamo già parlato cosa ne pensi dei news riguardo YNG non l'ho approfondito ragazzi l'ho sentito non l'ho approfondito ovviamente se sono coinvolati sempre il giusto approccio ciao mi tutto bene volevo chiederti un'informazione ma secondo te dov'è l'app o l'exchange migliore per fare un pack su BTC e Ethereum perché mi dicono che Crypto.com ha troppe FI rispetto a concorrenza grazie mille come sempre ma banalmente penso che anche FTX abbia una cosa simile o Binance insomma puoi utilizzare anche Binance ovviamente per chi non lo ha non so se non lo avete però se non lo avete trovate il link sotto in descrizione con appunto il 20% per sempre di sconto FI che è veramente tanto abbiamo capito tutti cosa è successo a OST quello che ci interessa sapere è come ti comporti tu con i tuoi luna ne compri ancora pensi che la situazione sia recuperabile non vedo un buon futuro un bel futuro per luna ma guarda io cerco sempre di essere abbastanza obiettivo nel senso che quando succedono queste cose è facile cadere nella trappola della è finita non vale più niente andremo a zero domani mattina queste cose qua io cerco sempre di essere un po' a metà ok delle cose sicuramente il problema principale a mio parere per luna sarà andare a recuperare quella fiducia quei depositi perché chiaramente ragazzi cioè dovete sempre immaginarvela così adesso voi magari noi mi metto dentro ovviamente anch'io parliamo di depositi di un certo tipo ma voi immaginate uno che deposita mezzo milione mezzo milione di dollari ok in OST o un milione di dollari in OST non può beccarsi una roba del genere a prescindere che lo recuperi o no ok ma un meno 60% non c'è scusate un meno 40% su una stablecoin non è gestibile ed è chiaro che quel capitale lì di fronte a una situazione del genere lo mette nelle condizioni di non magari avere più esposizione in OST quindi è quello che voglio farvi comprendere un po' la lungimiranza sicuramente il progetto non è non cambia nulla rispetto a ieri e all'altro ieri cambia un po' quella che è la concezione che porta OST e porta l'una all'interno del settore quindi quella è la preoccupazione più ampia il recupero di una condizione di confidenza da parte della community ok che che crede in questo progetto a mio parere la parte tecnologica è molto interessante molto valida è uno use case secondo me è uno dei precursori di una DeFi molto interessante per quello che riguarda le stablecoin è chiaro che dovete capire le entità i valori in gioco sfido chiunque con 7-7 miliardi di sell pressure in due giorni a gestire il peg non lo so neanche se USDT possa fare una cosa del genere ora stiamo parlando di altri numeri altre capitalizzazioni però penso che valga un po' per tutti ok non l'una nello specifico vediamo 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 ho la sensazione che quello che sia successo su terra sia un attacco premeditato e ben architettato va bene il FUD ma per perdere metà del TVL in un giorno mi sembra qualcosa di non molto chiaro tu cosa ne pensi dove andava troppo fastidio beh sicuramente ne avevamo parlato anche dei profili twitter americani di questo attacco in realtà vi ripeto attacco è una parola che in DeFi non hanno fatto nulla di male non è che hanno creato un protocollo hanno operato in una certa condizione manovrando il peg probabilmente sì però il discorso è che è stato eseguita una mossa di mercato consentita non è che è stato bucato un protocollo quindi di conseguenza è il mercato che fa i prezzi ed è il mercato che fa il peg ok di conseguenza sì è un attacco alcuni dicono attacco anche a me viene da dire attacco ok perché un attacco è un protocollo in effetti in tutti gli effetti però di per sé è consentito farlo sicuramente ragazzi non è una cosa che abbiamo fatto noi che stiamo seguendo noi 150 che seguiamo la live ok ecco come la vediamo entrata su luna ragazzi i coltelli che cadono può andarvi bene può andarvi male ma come chi è entrato qui ragazzi cioè chi è entrato su ST qua ok o a 0.65 o a 0.60 cioè era follia ok ma non tanto perché non recupererà il peg ma qua non avete una fine cioè potenzialmente può andare a 0.40 cioè prendere i coltelli che cadono o vi va bene o vi va male personalmente aspetterei di capire i prossimi giorni come va a stabilizzarsi questo come sempre vediamo vediamo cosa hai pensato di Hbar non lo seguo quindi non voglio dirti cose a caso se sei arrivato tardi non ti preoccupare la vedi poi indifferita su YouTube io su Twitter Telegram e server Discord vedevo una maria di fad di gente che non aveva letto né white paper né conosceva minimamente il funzionamento di Terra UST o che addirittura diceva di averci messo tutti i suoi soldi ok andatevene da questo mondo prego ciao Emiliano sono ragazzo del caffè al fico a Bologna ricostantemente impegnato spero di trovarti a Roma la Blockchain Week assolutamente sì grazie mille dei caffè apprezzatissimi anche dagli altri ragazzi e sì 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 ma io se tutti questi appuntamenti anche a Bologna eravete eravete eh scusate eravate davvero tantissimi ho parlato con tutti secondo me sono appuntamenti che è una figata da fare perché appunto abbiamo modo di incontrarci di poter parlare eccetera e sì sarò a Roma la Blockchain Week quella riesco ad esserci quindi ci troviamo poi là con tutti quanti e il cartello ciao bro mi puoi guardare il grafico FTM grazie guardiamoci il grafico di FTM bro vediamo che succede succede niente di che succede quello che è successo a tutte le altcoin personalmente siamo in un downtrend non andrei a espormi long su questa situazione anche se in effetti siamo su un supporto abbastanza interessante gli 0.58 però ripeto vale tanto il discorso delle altre altcoin vi ho preso più oggi il discorso di Luna perché è un po' un caso no? importante per tutto il resto appunto sapete bene che siamo ampiamente correlati bitcoin a Nasdaq S&P 500 e delle altcoin a bitcoin quindi andiamo un po' di pari passo buonasera Emi cosa voleva sapere la tua cosa voleva sapere la tua opinione Avax ritornerà come prima stessa cosa vale per il mercato bisogna aspettare un bounce e capire dove bitcoin trova il suo bottom e se ci sarà un recupero è ovvio che se bitcoin ragazzi domani vi fa un altro un più 10% trovate al coin che vi fanno più 30 questo è chiaro va anche in proporzione al rischio della capitalizzazione però bisogna attendere a mio parere se la gente prelevasse il 40% dei depositi delle banche sarebbe anche peggio e vedi ho già pensato è vero in quanto le banche in genere hanno solamente il 15% del totale dei depositi sì le banche devono rispettare degli indici di esposizione degli indici di riserve obbligatorie che devono detenere e le altre non sono obbligatorie quindi sì quello è vero quindi è un bel commento il tuo molto pertinente molto interessante io sono sempre nell'ottica di prendere i dati alla mano non mi piace parlare senza dati sono il primo che condanna delle cose se ci sono da condannare sono quello che non le condanna se non ci sono da condannare io vi parlo dati alla mano e dico avrebbero potuto fare di meglio ditemelo voi ditemelo voi con 6-7 miliardi di self pressure in due giorni se il peg potesse essere rispettato anche su altre stablecoin questo secondo me è da chiederselo la risposta può essere anche sì non vi sto dicendo che la risposta corretta è la mia però va fatta una riflessione a riguardo secondo te influenza è in negativo di più la guerra oppure la federal reserve ma guarda non sono due eventi molto molto positivi per il mercato in generale quindi vale un po' entrambe le cose vediamo così siamo verso la chiusura se no facciamo una live lunghissima che su youtube diventa inguardabile dopo tutte queste vicende in defi decentralizzata non stai non dovremmo rivalutare la cara vecchia bsc centralizzata sì ma almeno dietro binance ma sì ma la chain non ha avuto un attacco cioè la chain funziona è operativa qui parliamo proprio di un discorso di progetti quindi se questo progetto lo porti su bsc vale tanta stessa cosa ciao emi se siamo ufficialmente in downtrend come pensi che possa mettersi il 2022-2023 a livello di ripresa tutti quelli che conosco me compreso sono entrati a mercato alto e siamo parecchio esposti al ribasso guarda io io il buon vecchio DCA il buon vecchio pack vi salva ok in generale nei vari mercati quindi se tu credi nel settore vuoi continuare a starci dentro e non sei preso dalla FAD puoi tranquillamente mediare un pack e abbassare il tuo prezzo di ingresso perché chiaramente se tu sei entrato a 60k e fai una seconda entrata a 30k la tua media di acquisto sarà lascio a voi la risposta fate il conto matematico 45k ok sulle stesse percentuali di esposizione quindi vedi come vai a mediare a ribasso poi ripeto non sono un consulente finanziario non posso dirvi quello che è giusto per voi perché quello che è giusto per me magari non lo è per voi dovete sempre adattare le cose però quella è sempre una buona strategia soprattutto per uno che magari non ha voglia di di esporsi più di tanto ciao Yumi Zaragast grande Zaragast un bacione è stato un piacere conoscerti dalla conference comunque ti ho fatto un ride lol ricordiamoci sempre od grandissimo Zaragast con pure la sua emoji incredibile grazie per il ride io non sono così esperto di tweet si di tweet di twitch quindi immagino che sia una cosa che voi vedete me sul suo canale non so come si faccia cioè se io volessi farlo e ricambiare lo farei volentieri ma non so come si fa appena ho modo cerco di capire come si fa su twitch comunque grazie mille c'è solo un piccolo problema chi affronta la questione in maniera approfondita può capire la situazione l'utente medio non so quanto riuscirà a rivalutare l'una UST grazie a te è vero a me mi fa incazzare ragazzi quando leggo le cose su twitter scritte a casaccio senza contestualizzare le cose ripeto non è questione di essere fanboy e non fanboy è questione di contestualizzare parliamo con i dati i dati cosa dicono cosa è successo perché è successo facciamo un post mortem ok perché altrimenti parliamo dell'aria fritta cioè è come se vi parlo di una cosa senza conoscere la tokenomics ma di che vi parlo cioè vi parlo della mia impressione che a me piace di più quello e facciamo mi metto la maglietta di cardano la maglietta di polkadot e vi dico polkadot è il più figo del mondo perché polkadot bellissimo il logo cioè capite cosa sto estremizzando la cosa però voglio farvi comprendere che dobbiamo parlare con i dati di effettivamente quello che è successo in chiusura vediamo se c'è qualcosa altro no mi sembra che ho letto un po' tutto quindi grazie se è il numero uno ma guarda l'importante è lo sapete qual è lo scopo del mio canale è quello di approfondire con voi le cose ok poi lasciare a voi quindi se questo live vi è stata utile interessante vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace di iscrivervi al canale con il suo campanellina per rimanere sempre aggiornati a iscrivervi con tutti i ref link che trovate sotto in descrizione così sono anche lo scellatore seriale no scherzando e basta noi ci vediamo domani mattina ragazzi con il mordo in weed crypto lo so che è stata una notte difficile questa notte se il mercato ce lo consente non dobbiamo stare a vedere i depeg del secolo potete dormire recuperare e domani mattina ci aggiorniamo con le news e con quello che è accaduto nella notte ancora una volta io vi auguro a tutti una buona serata ciao ragazzi